Paul Pogba è il miglior centrocampista della sua generazione, un calciatore con qualità straordinaria che abbiamo visto nella Juventus fino a quattro anni fa e abbiamo visto anche nella nazionale francese con la quale ha conquistato nel 2018 il titolo di campione del mondo. Proprio quattro anni fa se ne è andato al Manchester United, la sua avventura in Inghilterra lui pensava che fosse altrettanto grande, altrettanto straordinaria, che portasse il Manchester a rinverdire i fasti del passato, ai grandi successi. In realtà non è stato così, per carità ha vinto un'Europa League, ha vinto una Coppa di Lega ma certamente non è mai stato competitivo per la conquista della Premier, ad esempio tantomeno lo ha fatto in Champions League, anzi in Champions si è qualificato soltanto una volta arrivando secondo in Premier League ma addirittura staccato di 19 punti dal Manchester City. Insomma, il suo Manchester, l'avventura di Pogba in Inghilterra è da 5, si aspettava molto di più lui, ci aspettavamo di più anche noi per quello che aveva dimostrato alla Juve. In questo momento la sensazione è che Pogba sia arrivato alla conclusione della sua avventura a Manchester, può andare a Real Madrid ma forse la collocazione migliore per il suo futuro, un modo per arrivare di nuovo al top nel momento massimo della sua carriera quando avrà compiuto ormai 27-28 anni e tornare alla Juve. La Juve, alla quale è rimasto profondamente legato, è certamente la soluzione ideale per il rilancio di Paul Pogba.